Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Polonia, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e via 11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in Fipili, rallentamenti per i spostamenti mattutini all'altezza di Firenze Scandici nei due sensi di marcia. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, fino al 10 febbraio segnaliamo lavori notturni nel tratto compreso tra Largo Palagi e Piazza Bambine e Bambini di Beslan. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Montecatini Centro e di Pescia quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!